Dopo più di dieci anni, una sentenza del TAR di Bari chiude il contenzioso giudiziario sul premio per il ritrovamento dell'uomo di Altamura. La sentenza attribuisce il merito della scoperta del reperto preistorico al CARS di Altamura e agli speleologi baresi Lorenzo Di Liso e Marco Milillo, riconoscendo agli stessi il diritto a percepire il premio per il rinvenimento. La sentenza ne ribadisce una precedente del 2007 e obbliga quindi il Ministero a erogare la somma complessiva di 450.000 euro ai tre soggetti. Nel 2001 una decisione della sovraintendenza aveva negato il diritto a percepire il premio perché i proprietari dei suoli, dove nel 1993 è avvenuta la scoperta, non avevano mai rilasciato le autorizzazioni agli speleologi a entrare nel terreno. Nel 2007 il TAR però aveva accertato che i proprietari del terreno, dato il comportamento, non si erano affatto opposti all'ingresso degli speleologi. Il Ministero non aveva ancora dato applicazione alla sentenza del TAR sostenendo di non aver ben compreso chi fossero i destinatari del premio. Ora la terza sezione prova a mettere la parola fine al contenzioso. Il Ministero ha quantificato il valore della scoperta in 1.800.000 euro. Il premio di 450.000 euro pari a un quarto del valore complessivo attribuito al ritrovamento dovrà essere ripartito fra il CARS di Altamura da una parte e i due speleologi baresi dall'altra. Grazie a tutti.